Nella serata di domenica 27 agosto 2023, esattamente alle 23.14, una scossa di terremoto ha colpito l'area dei Campi Flegrei, situata tra Napoli e Pozzuoli. Questa regione è situata all'interno di una caldera vulcanica attiva. Il terremoto è stato percepito chiaramente dai residenti della zona, i quali hanno condiviso le loro testimonianze sui social media. Sebbene le scosse non fossero di grande entità, l'attività sismica intensa fa parte di un fenomeno di bradisismo in corso. L'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha calcolato la magnitudo del terremoto 2.6 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 3 km. Questo evento sismico è parte di una serie di fenomeni collegati all'attività vulcanica e sismica presente nella regione dei Campi Flegrei.